quindi ci hai spiegato Andrea che devi scendere tutte le volte che ci sono dei rifiuti fuori dal cassonetto per inserirli dentro il cassonetto poi a quel punto c'è l'operazione automatizzata che è quella che stai facendo in questo momento però prima devi scendere per forza per recuperare tutta la roba che viene buttata fuori dai cassonetti questo ovviamente fa perdere del tempo anche se no fermarmi fra un cassonetto manca un minuto ci vuole poco tempo si con l'operazione automatizzata ci sono stati dieci minuti abbiamo fatto il cassonetto si poche noi stiamo facendo l'indifferenziata giusto indifferenziata